Ciao a tutti sono Federico Boio allenatore di pallavolo e di bici volley ho aperto un nuovo canale per dare possibilità agli appassionati di volley di prendere informazioni e soprattutto di avere spunti di riflessioni per i propri allenamenti il canale può essere utile sia per allenatori che per atleti ho raccolto dei video in modo molto amatoriale filmando in prima persona elementi fatti quest'anno con ragazze alle primissime armi quindi under 12 che possono essere considerate quasi s3 visto i due anni di pandemia e quindi di non attività in loco questo canale serve anche per dare degli strumenti nuovi per provare a usare quindi anche la tecnologia per auto informarsi e avere quindi spunti da usare poi nella pratica quotidiana ho usato anche video già su youtube molto interessanti di allenatori più esperti e più capaci oltre a i video fatti in diretta un saluto e buona visione a tutti